Continuano le nostre interviste, ora sono in compagnia di Nino, grazie per essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ricordiamo appunto chi sei, il tuo ruolo, tu sei un imprenditore. Sì, sì, sì. Allora, io sono Nino Tomasino, imprenditore, vivo a Dubai e Qatar dove ho la mia azienda. Ci tenevo tanto oggi a essere con voi perché vedo che l'evoluzione va più veloce della luce e non tutte le aziende riescono a capitarlo. Ci sono delle giornate che ti lasciano il ricordo, alcune che ti lasciano il segno. E noi cosa ti abbiamo lasciato? Il segno e il ricordo. In più che c'è una novità, l'intelligenza artificiale, l'argomento oggi trattato. Che ragazzi, questo è qualcosa che o la sposi o si è tagliato fuori. E nel contempo con ciò che ha detto Matteo Rivolta, bisogna integrare l'intelligenza artificiale con la nostra intelligenza. E questo è lo stato vincente. Abbiamo ottenuto delle nazioni molto particolari. Quindi lo consiglieresti poi? Sì, lo consiglio e lo attiverò. Ci verrai di nuovo a trovare? Sì, siamo in stretto contatto ora con Matteo, con la vostra Tupi, sicuramente sì. Nasceranno anche argomenti importanti. Siamo molto contenti di essere stato con noi, della tua testimonianza, di quello che hai detto perché sono state delle parole meravigliose che è anche questo, quando sentiamo questo, che ci dà la forza per continuare a fare il nostro lavoro e migliorare sempre di più. Ti ringrazio. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie, lo meritate. Grazie. Ciao, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi.